buongiorno buongiorno oggi è martedì 28 novembre la segna stampa in breve di video 33 nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione sarà una giornata all'insegna della variabilità nuvolosità in aumento sul nostro territorio alto tesino temperature minime comunque molto basse vedremo tra poco i dettagli questa mattina in regia abbiamo massimo moro allora con il suo aiuto andiamo a vedere cosa accade innanzitutto alle 6 e 30 di questa mattina villa bassa guardate che bel gioco di luci grazie grazie al sole che sta per sorgere all'orizzonte altra bella immagine che ci arriva dalla cima di plan de corones sempre alle 6 e 30 di questa mattina paesaggio tipicamente invernale la collaborazione con gli esperti meteo ci aiuta dare un'occhiata alla grafica a temperature minime negative meno 3 gradi a bolzano merano e silandro meno 4 bersanone meno 7 gradi a brunico meno 9 gradi a vipiteno in queste due ultime località della provincia la temperatura massima nelle ore più calde non dovrebbe superare 0 gradi 5 gradi a bolzano 4 gradi a merano nelle ore centrali le aperture le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola la stampa locale lingua italiana innanzitutto l'alto adige apre con la tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri amerano muore a 41 anni sui binari la tragedia in stazione l'uomo era accovacciato foxis ok su ghiaccio addio a coach curcio oggi arriva l'esonero la cronaca cura del corriere dell'alto adige la politica in apertura sfiducia l'esfope blinda bizzo oggi la votazione il presidente dice io sono tranquillo tutto ruota intorno ad una mozione per la commissione di inchiesta sulla carispa il quotidiano in lingua tedesca dolomita nell'apertura è dedicata alla tragedia di merano i problemi per il leader dei castelluto e spazene che dopo la complicata operazione al cuore non parteciperà alla tourne spazio al figlio la cronaca cura del quotidiano tag eszeitung il fondo sociale europeo chi attende ancora la liquidazione di importanti importi a pagina due dettagli e poi i progetti per rilanciare il giardino vescovile di bressanone parla il guru andre heller il suo progetto la sua idea il corriere della sera pre notizia a livello nazionale ed internazionale aiuti alle famiglie ma sconto ridotto sul super ticket berlusconi frena sull'ex generale dei carabinieri gallitelli sarà comunque nel governo la cronaca dedicata alle buone notizie l'appuntamento del martedì del corriere della sera parla la famiglia dell'attaccante della nazionale di calcio morto all'inizio del 2013 per la sla la sla di stefano borgonovo non ci ha fermato né è nato un libro il sole 24 ore un tax day da 32 miliardi web tax in salita tre decreti per attuarla i colossi della rete dicono siamo pronti a trattare è tutto come sempre in chiusura io vi ricordo vi ricordo gli appuntamenti da non perdere prosegue la foresta natalizia nel giardino della forst nell'ambito di questo appuntamento l'allegra lettura di natale il 30 di novembre il 5 di dicembre appuntamento con il crampus il 6 di dicembre sanicolò sempre alla foresta natalizia nel giardino della forst grazie grazie per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33 buon proseguimento di giornata